Conciliare la vita di studente con quella di atleta non è semplice. In aiuto degli sportivi di alto livello iscritti all'Università di Verona arriva il progetto Academic Coach, ideato e promosso dal Comitato Sport di Ateneo e dall'ESU Verona, in collaborazione con il CUS. L'iniziativa è stata presentata dal Rettore Nicola Sartor, dal Direttore di ESU Gabriele Verza e dal Presidente del Comitato Sport di Ateneo Federico Schena. Si riconosce la peculiarità della loro attività che non consente una frequenza degli studi pari a quelli degli altri studenti e quindi da qui l'idea di individuare un tutor, una persona che è o un neolaureato o un laureando che possa dare loro dei consigli su come utilizzare al meglio il loro tempo tra un allenamento e l'altro, tra una competizione e l'altra per massimizzare l'efficacia della preparazione in vista degli esami. Testimonial dell'iniziativa sono Simone Anzani, già pallavolista della Blue Volley Verona e la notatrice Laura Letrari, entrambi iscritti all'Università Scaligera, che hanno testato Academic Coach nello scorso anno accademico con ottimi risultati. Un progetto che opera su più livelli e che potrebbe portare anche al riconoscimento dello status di studente-atleta, come già avviene per lo studente-lavoratore. Credo che questo progetto che approda anche nel nostro Ateneo vada proprio a entrare nel cuore della missione sportiva e formativa del CUS. In doppio senso, da un lato è importante che gli studenti dell'Università di Verona capiscono che lo sport possa essere compatibile anche con uno studio impegnativo, ma dall'altra parte certamente è anche un invito agli studenti-atleti ad impegnarsi nello studio perché è chiaro che il traguardo in questo caso ha una prospettiva anche più lunga e riguarda la vita futura della persona. Una proposta che io ho voluto lanciare qui quest'oggi, di cui ci faremo carico sicuramente insieme all'Università, annualmente la Regione ci chiama a collaborare alla stesura del piano per il diritto allo studio universitario degli anni che entrano. Quindi quando nei mesi di maggio, giugno dell'anno prossimo l'Università ci chiamerà chiederemo alla Regione di valutare, di trovare delle specificità che facciano un po' anche da noi e dello studente che ha questa doppia attività, uno status, cioè creare uno status dello studente-atleta-professionista ad alto livello, andando a individuare quali possono essere i supporti e il sostegno di cui può aver bisogno, così come da sempre mirabilmente la Regione fa per gli studenti lavoratori. Grazie.